Buongiorno, oggi è il 6 di febbraio, mi trovo all'interno dell'area dell'ex magazzino comunale di Via Palermo. Ormai è stato demolito tutto quello che era presente in quest'area e quindi il terreno è sgombro. Ed è pronto per chissà cosa è programmato in questa zona. Dicono un nuovo centro commerciale, vedremo un'area molto vasta, in una zona ben servita, vicino al centro città, ad un passo da via 4 novembre, corso 4 novembre, ad un passo anche dalla zona del quartiere Europa, da un lato e il quartiere Pista dall'altro. Questa è la panoramica. Il cancello l'abbiamo trovato inspiegabilmente aperto, ma ormai non esiste più la possibilità di trovare ricovero e rifugio in quest'area. E' rimasto in piedi il muro di Cinta, che contorna tutta l'area, ecco lo vedete, ecco qua. Via Palermo, immediatamente dietro al cancello, le case l'inacasa, le case popolari e altre case che contornano l'area stessa. Un caro saluto, arrivederci a tutti voi da Svegnati Alessandria.